Non c'è una frase adevitabile ai sette scienziati che hanno partecipato alla riunione della Commissione Grandi Rischi, da cui si possa dedurre un messaggio rassicurante verso l'esterno. La ringa dell'avvocato Franco Coppi, difensore dell'ingegner Giulio Selvaggi, uno dei sette imputati al processo, è stata diretta tutta a smontare il castello accusatorio dei pubblici ministeri Fabio Picuti e Roberta Davoglio, che hanno chiesto quattro anni di reclusione per tutti i sette scienziati che hanno partecipato alla riunione della Commissione del 31 marzo 2009, con l'accusa di omicidio colposo e lessioni personali colpose per aver sottovalutato il rischio sismico ed aver dato false rassicurazioni ai cittadini aquilani, causando la morte di 309 persone nel devastante terremoto del 6 aprile. Se leggiamo gli atti verbali della riunione e quello che hanno detto anche gli altri partecipanti alla riunione, non c'è stata nessuna affermazione rassicurante, anzi c'è stato questo continuo ribadire il fatto che purtroppo l'Aquila è forse la zona d'Italia più elevato grado di sismicità e che quindi la possibilità di un terremoto non può essere esclusa. Certamente non può essere neppure prevista, ma questo lo sanno tutti. Ma quello che interessava è che non poteva assolutamente essere esclusa. Chi avrebbe rassicurato secondo lei? Ah non lo so, io mi sono occupato soltanto della posizione di Selvaggi, ma basta leggere un po' gli atti e probabilmente si capisce chi, sicuramente in buona fede intendiamoci, e poteva cercare di gettare un po' di acqua sul fuoco tenendo conto che in quei giorni si era formato un allarmismo che era ingiustificato sul piano scientifico, il che non significa che purtroppo il rischio non ci fosse. Il processo va avanti a ritmi spediti. La sentenza di primo grado del giudice Marco Billi è infatti prevista per il prossimo 22 ottobre, a poco più di un anno dall'inizio del dibattimento. Grazie a tutti.